Adesso è il momento della nostra raffica di mercato, Mario. Sì, Fabrizio, partiamo dalla Serie B e dal Bari, perché stanno per separarsi in maniera ufficiale, per il momento però, perché l'operazione è a titolo temporaneo, le strade di Filippo Faggi e il club del presidente Luigi De Laurentiis. Faggi, centrocampista di 20 anni, infatti si trasferisce in Serie C, prestito secco alla Virtus Centella, sino a termine di questa stagione, poco spazio per lui in Puglia, solo una presenza in 20 gare, 16 minuti finali della partita vinta 1-0 contro la Cremonese, ma eravamo in questo stagione, nella seconda giornata di questo campionato. Scegliamo in Serie C, dove giocherà Faggi a partire dal prossimo turno di campionato, parliamo di Cerignola, perché per quanto riguarda il mercato in uscita degli Ofantini è fatta per la cessione di Franco Sosa al Monopoli, dunque dal gelo blu del Cerignola al bianco verde del Monopoli, manca l'ufficialità, ma ormai i dettagli sono stati definiti dalle due parti, formula del prestito, è questo il trasferimento di Sosa al Veneziani. Il Cerignola sta lavorando, già per il suo sostituto, ci sta lavorando il DSL di Torro su Raul Asensio, che è un ritorno di fiamme, perché l'attaccante era stato già seguito dal Cerignola durante la scorsa estate, poi Asensio ha preferito il Potenza, capiremo se poi ci saranno i margini per un suo trasferimento al Cerignola. Per il centrocampo invece Cerignola, che ha effettuato un sontaggio per Tommaso Fantacci, classe 97, attualmente in forza al Monterosi, quindi gioca sempre nel giorno C di Serie C. ieri il jolly Giuseppe Coccia ha rinnovato invece sino al 2025. Ufficializzazione alla Virtus Francavilla, si tratta di Vincenzo Garofalo, arriva dal Brescia centrocampista, classe 99, prodotto dal settore giovanile della Salernitana, è sortito in Serie C con la maglia del Rieti, diverse esperienze, tre professionisti per lui, proprio Acenza, San Benedettese, Avellino, è stato in Puglia non solo alla Virtus ma anche al Foggia e ora per lui la possibilità dunque di giocare. Con la squadra allenata da Roberto Chiuzzi, ufficialità anche al Taranto, si tratta di Mirko Miceli, difensore, classe 91, grande esperienza per lui, arriva in presido dalla Turris, tante esperienze in carriera per lui, e poi è transitato dalla Puglia perché ha giocato con la Virtus Francavilla.